Falsa etimologia, o paraetimologia. In tedesco viene chiamata folxetimologie, letteralmente etimologia popolare, e già questo ci dice molto. Si tratta di reinterpretare l'etimologia di una parola sulla base di somiglianze con altre parole. Esempio. Secondo un certo Paolo Minucci, XVII secolo, l'espressione abizzef deriva da bisf uguale due volte a f, mentre deriva dall'arabo bizzarfo uguale molto. Con delle false etimologie si può dimostrare tutto e il contrario di tutto. Esempio. Matrimonio deriva dal latino mater munus, cioè compito della madre. Quindi il matrimonio è per definizione legato alla funzione procreatrice naturale, e di conseguenza esso può essere solo e soltanto un'unione tra uomo e donna. L'etimologia anche se in questo caso è corretta, bisogna però considerare che in altre lingue l'etimologia può non essere quella. Pallaccia di composizione. Si attribuiscono proprietà delle parti al tutto. Questa torta contiene frutta, la frutta fa bene, questa torta fa bene. Pallaccia di divisione. Si attribuiscono proprietà del tutto alle singole parti. Gli indiani d'America stanno scomparendo, tu sei un indiano d'America, quindi stai scomparendo. Le fallacce. Consistono nel sbagliare quale sia la causa di qualcosa. Non causa, però causa. Una causa messa al posto di una causa vera. Post hoc, ergo propter hoc. Dopo di questo, quindi a causa di questo. E la principale fallaccia causale. Consiste nello scambiare le correlazioni con un rapporto di causa-effetto. Esempi. Ogni volta che passa una cometa avviene una disgrazia. Quindi sono le comete a causare le disgrazie. Oppure, se vado al ristorante, mi sento male, è stato il cibo del ristorante a farmi stare male. Irrilevanza causale. Causa irrilevante scambiata per quella principale. Se Taranto è inquinata è colpa dei fumatori. Effetti congiunti. Un sottotipo di post hoc, in cui due cose hanno una causa in comune, ma una viene scambiata a causa di un'altra. Se vicino alla riva ci sono le meduse allora si vendono più gelati ai bar delle spiagge, quindi le meduse fanno aumentare le vendite dei gelati. In realtà entrambe le cose possono essere causate dal caldo torrito. Causa complessa. Ci possono essere più cause per una medesima cosa, ma ne vengono ignorate alcune, come nell'evidenza soppressa. Giovanni ha fatto l'incidente con la macchina perché all'angolo c'era un albero che ne impediva la visibilità. In realtà Giovanni era anche ubriaco e poco esperto come guidatore. In versione causale. Vengono invertite le cause e gli effetti. Spesso è associata anche a un circolo vizioso. Esempio. A. Ho l'insonnia, sono andato dal medico e mi ha prescritto questo rimedio. B. Ma non sarà forse quello che il medico ti ha dato a farti venire l'insonnia? Per il momento è tutto, spero di essere stato chiaro, utile ed esaustivo. Alla prossima!